Le profondità dei nostri mari sono ricche di bellezze inestimabili e le immersioni subacquee ci permettono di esplorare l'eccezionale patrimonio sommerso del nostro paese. Se vuoi dedicarti a questo sport, segui sempre alcune importanti regole di sicurezza. Prima di un'immersione, verifica sempre l'efficienza della tua attrezzatura e praticala al meglio della tua condizione fisica. In mare, ogni subacqueo deve esporre sempre la prevista boa di segnalazione. Se sei un subacqueo, ricorda che non puoi allontanarti oltre 50 metri dalla posizione segnalata. Effettua le immersioni in coppia, ancora meglio se con un professionista esperto, conoscitore del luogo di immersione. Per altri consigli per la tua sicurezza in mare, consulta il sito www.guardiacostiera.gov.it